Con la conferenza stampa di presentazione tenutasi presso l'associazione Pegaso è scattato ufficialmente il conto alla rovescia verso la sesta edizione di Io corro con te, evento sportivo e culturale allestito dalla Biceglie Running sul lungomare di Ponente con il patrocinio dell'amministrazione comunale. La corsa non competitiva di 6 km si terrà domenica 19 maggio con partenza alle 9.30 come da tradizione all'altezza della Conca dei Monaci dove è collocato anche il traguardo. Obiettivi e novità della manifestazione che lo scorso anno ha toccato quota 1.500 partecipanti sono stati illustrati dal presidente della Biceglie Running Mauro Sasso attento nel rimarcare la lodevole partnership con l'associazione Pegaso a cui sarà devoluto parte del ricavato delle iscrizioni al fine di creare un laboratorio artistico nella struttura di Via Padre Colbe fondata da familiari di persone con disabilità. Sicuramente cercheremo ancora di più di portare quello che è il nostro obiettivo cioè quello di portare la corsa a Biceglie, quello di essere sempre vicini al sociale. Infatti quest'anno abbiamo sposato con Pegaso un progetto che la Pegaso ci ha dato la possibilità di poter sponsorizzare. Sul percorso no, abbiamo riconfermato lo stesso percorso degli altri anni anche perché è sempre una bella passeggiata notevole e piacevole diciamo sul lungomare. Quest'anno avremo forse qualche punto in più musicale quindi allieteremo questo passaggio dei nostri partecipanti. Già a buon punto la raccolta delle iscrizioni. Devo dire che già adesso siamo abbastanza avanti quindi grazie a Dio stiamo già in una buona risultata. Tra gli intervenuti inoltre la referente della Pegaso Onlus Maria Pia Simone, l'assessore lo sport Vittoria Sasso, il direttore provinciale di Conf Commercio Bari e Bat Leo Carriera ed il responsabile regionale Lidl Piero Vialetto. La multinazionale tedesca si occuperà infatti dei pacchi gara da consegnare al traguardo a tutti i partecipanti. Testimonial della manifestazione sarà ancora una volta l'ultramaratoneta Nicolangelo Davanzo, punta di diamante della Biceglie Running, attualmente concentrato sulla preparazione di un'autentica impresa, la Ultra Milano Sanremo di 285 chilometri in programma sabato 27 aprile. Un invito a partecipare, non è una gara, è un invito a correre, a camminare, a passare una giornata di festa tutti assieme, è una bella esperienza da fare.